Mario D'Agostino, medico affermato con il piacere della scrittura, una nuova fatica letteraria, un nuovo lavoro proprio presentato in questi giorni, intanto qual è il tema trattato? È un thriller, tutto prende le mosse da una ragazza che scompare e naturalmente iniziano le indagini, è chiaro che una scomparsa senza una motivazione apparente, senza che si sappia il come e il perché, è sempre fonte di grande curiosità. Ora, talvolta la verità è davanti agli occhi, in altri casi, come in questo thriller, perché di thriller si tratta appunto, la verità va cercata a fondo e bisogna scavare in quello che è anche il passato della ragazza e dei suoi amici. Scelto un titolo particolare, il verso sbagliato, perché? Diciamo che a tutti piace stare sulla strada giusta, a tutti piacerebbe essere consegnati a quella che è la parte giusta della storia, ma non dobbiamo domandarci se poi è sempre così, se poi in realtà i fatti che accadono nella vita o le scelte che facciamo o anche semplicemente alcune coincidenze non rimescolano le carte che abbiamo davanti, non creano quel clima in base al quale non sappiamo più cosa è giusto e cosa è sbagliato. È un po' come quando noi, tanto fisicamente quanto metaforicamente, durante un viaggio ci domandiamo se non abbiamo preso una strada sbagliata. E in quel caso quando l'abbiamo presa? Ecco, questo clima di incertezza, questo clima di fastidio emotivo è quello che possiamo trovare all'interno di alcuni personaggi che saranno costretti molto spesso a chiedersi, ognuno chiaramente con i suoi livelli di riferimento, si dovrà chiedere se non sta percorrendo il verso sbagliato della propria vita. Ecco, i personaggi, soprattutto i protagonisti di questo racconto, quali sono le loro caratteristiche? Sarebbe facile dire che il protagonista è la ragazza scomparsa, in realtà lei è uno dei protagonisti, perché forse i veri protagonisti sono cinque amici che si conoscono nei tempi dell'adolescenza. Il punto chiave probabilmente è che sono così intimamente legati tra di loro e le loro vite sono così intrecciate che inesorabilmente la scelta di uno ricade sempre a sconvolgere in un modo o nell'altro la vita degli altri. Questo è quello che possiamo constatare spesso anche nella nostra quotidianità. Ci sono anche qui tradimenti, amori, vendette, c'è tutto quello che nella vita quotidiana noi possiamo vedere attorno a noi. Ma tutto questo forse ci porta a chiederci se noi non siamo in fondo anche il risultato delle scelte degli altri. Scrivere per il piacere di farlo, ma certamente c'è di avere un grande lavoro, di impegno, tempo anche tolto alla famiglia, alla professione, dei ringraziamenti da fare per chi ha sostenuto il progetto fino a questo momento e chi lo sosterrà in futuro. Sicuramente quando c'è un libro che viene portato al grande pubblico in ogni caso è un successo meraviglioso ma non solo per chi lo scrive, anche per la società perché è una traccia tangibile di un percorso, di una storia e le storie per noi sono veramente importantissime. Certo, i ringraziamenti, i più importanti ringraziamenti vanno a coloro che mi hanno comunque aiutato in un modo diretto e indiretto nella realizzazione del libro, anche semplicemente nutrendoci di storie quotidiane, se vogliamo. Un ringraziamento a Maurizio della casa editrice Contanima perché Beato Lui è sempre nel verso giusto e un ringraziamento, se me lo permettete, anche ai lettori che avranno la possibilità di leggere questo libro sperando di avere regalato loro l'emozione di una piacevole lettura. Grazie